Controlli a tappeto negli oltre mille istituti capitolini dopo il terremoto dei giorni scorsi e registrato anche a Roma. Scuole agibili hanno dichiarato tecnici e periti inviati dal comune, eccezione fatta per un asilo del secondo municipio. All'indomani, anzi lo stesso giorno del sisma, abbiamo chiamato un po' tutti in Campidoglio, l'avete visto, e in questa attività devo dire che moltissimi dipendenti e tecnici capitolini e dei municipi sono addirittura tornati dalle ferie. Abbiamo avviato in 48 ore un monitoraggio speditivo di tutte le scuole, che significa fare una ricognizione visiva dei possibili danni che il sisma poteva aver determinato. Le squadre di tecnici municipali hanno visionato praticamente tutte le scuole di Roma e nei casi più critici hanno ritenuto di inviare una segnalazione al Dipartimento Simu, che è un ufficio del Dipartimento Lavori Pubblici, che ha effettuato un secondo sopralluogo. All'esito di queste ispezioni è stato ritenuto di poter dichiarare agibili tutte le scuole. Solamente una, un nido in secondo municipio, è stato chiuso per precauzione, perché sono state viste delle crepe, che comunque meritano un approfondimento maggiore. Non ci sono stati danni visibili gravi e questa è l'attività che è stata effettuata in queste 48 ore. Parallelamente sta invece prendendo il via un lavoro molto più importante, che è quello di capire e individuare una roadmap per fare sopralluoghi relativi alla tenuta statica degli edifici. Roma dal 2008 è stata dichiarata zona sismica, dal 2008 questi controlli non sono stati effettuati, quindi noi stiamo individuando proprio una roadmap per capire quali sono gli step, che cosa dobbiamo fare e soprattutto quanti soldi serviranno. Al momento si parla di non meno di 5-6 milioni per tutte le scuole. È ovviamente un'indagine approfondita che richiederà tempo, soldi, ma comunque deve essere iniziata, quindi noi abbiamo intenzione di metterla in funzione quanto prima. Quindi già dal prossimo bilancio inizieremo a trovare risorse, capiremo se poi possiamo in qualche modo lavorare insieme anche ad altri enti, se il governo ci aiuterà chiaramente, perché comunque questo tipo di esami non possono essere rinviati. La natura ci fa capire come è fondamentale effettuare delle indagini approfondite e intervenire dove serve. Parola d'ordine sicurezza. Fondamentale quindi un piano di prevenzione di lungo periodo su tutti gli istituti disseminati nella capitale, che costerà, secondo la stessa prima cittadina, una cifra compresa tra i 5 e i 6 milioni di euro. Quanto ai 105 asili nido che l'amministrazione avrebbe escluso dal monitoraggio, puntuale la smentita di Laura Baldassarre, assessora alla scuola di Roma Capitale. Noi in 48 ore abbiamo dato la possibilità a tutti di realizzare un monitoraggio a tappeto, inventando e realizzando una modalità innovativa, a partire da una semplice checklist per capire quale fosse la riapertura, la situazione appunto degli edifici. Noi siamo partiti chiaramente dando priorità agli asili e alle scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado che sono sotto la responsabilità di Roma Capitale. L'invito è stato esteso a tutti, quindi noi abbiamo lavorato con i municipi, abbiamo lavorato con i dirigenti scolastici, con il personale scolastico, garantendo 1.044 su 1.100 istituti sono stati monitorati nelle 48 ore. Il monitoraggio viene quindi poi completato. È importante dire che le situazioni trovate non sono state gravi, perché sono stati poi segnalati ai tecnici attraverso i municipi soltanto le situazioni particolarmente irregolari e soltanto un asilo nido non ha potuto riaprire in secondo municipio ieri. L'invito era esteso chiaramente a tutti, poi è responsabilità delle singole strutture portarlo avanti. Noi abbiamo chiesto che fosse fatto a tappeto e siamo riusciti a realizzarlo a tappeto. Quindi Assessore, non è vero che sugli istituti di 15 municipi, quelli di 7 municipi non erano stati avvertiti del controllo e non l'hanno ricevuto? Il monitoraggio è stato realizzato dai municipi a tappeto con gli interventi dei tecnici e io credo che abbiamo dato un servizio efficace alla cittadinanza. Grazie a tutti.